Sullo sguardo, con i fumi bianchi, riportiamo l'aeroplano e entriamo in display. Sì, è stato rinforzato il lungerone in legno con carbonio. Aumentate le superfici mobili degli allettoni per consentire al velivolo di avere una velocità di ruolino decisamente maggiore. Questo è il Fistler. Fissiamo l'ala col piede di un punto e due alla cuccia. Questa è una novità per la cuccia del 2018, che è una somma giochievole maestro, che è il segno della provincia, è di nuovo giù. Che oggi viene dall'esperienza civile del manco aerobatico, che è lo struttore di aerobatico di variazione generale. Lo scorso lato ha consegnato il secondo agosto, la gattoria scopo a Aspergeri, che è stato rinforzato in Romania, che è stato rinforzato in Urbano. Rulino a top, e di nuovo ricerchiamo il centro della display. Questo è il plano a la capacità di sottopare i fattori di carico da Q6G a meno 4,5 km. Quindi, pilota di quanto sia? Nel momento della massima tirata, ovvero quando la dash è alla pancia, è messo, quando si arriva al fattore di carico di 6G, il suo corpo pesa 6 volte. Il suo peso normale. Dalla posizione non esce, vedi, gira, però, in questo momento è un fattore di carico di un'unica. Che la testa è in giù, è la testa. Che la testa è in giù. Che la testa è in giù. Che la testa è in giù. Qui è anche un allenamento fisico importante per supportare queste manovre. Che la testa è in giù, è la testa. Che la testa è in giù, è la testa. Che la testa è in giù, è la testa. Che la testa è in giù, è la testa. Che non ce la posso fare. Che la testa è in giù. Che in giù. Che la testa è in giù. Che la testa è in giù, è il fianco. Lo trattavo tra tutti tutti. È il senco. Questo lo trattavo sul display Einledon con questo inn Switch. Di questo supportore che è l'Unioneiensi. Di questo certo, non ce la posso fare. e di nuovo allineati sulla display light. Ok, questa volta il tuo re è a fronte, ovvero insieme a Rovio mettiamo dentro i piedi e i copiari sono veloci, immaginate una vite, la filetta dura nel verso cilindro. Allora, vediamo.